Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a giocare un'altra volta al topo gigante Comunque, giocherò un'altra volta con mia cugina, guardate che è magra, nella vita reale non è per niente così Ettore, fai pure tu il video E scrivo yes Comunque, mangiamo quel topo, il topo, il formaggio, cheese, 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 cheese Entriamo Allora, ora andiamo per qua Andiamo con i topolini, topolini Ok No No, paura No 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 Sta arrivando Alzo pure un po' Mamma che ciccione Aiuto, paura No, va bene, va paurissimo Andiamo avanti, dai Ma che rumore Allora, mi ha scritto Sofia Ehm, 28 robux No, non li voglio Che vuoi? No, sto scrivendo subito No, non parlo perché sono attento proprio che sto sentendo se c'è il topo gigante Il topo gigante Ehm Allora Se io fosse un topo dove mi metterei a mangiare un formaggio Ah, comunque Sento Qualche cosa No, dimmi che qua Mamma Aiuto Mamma che paura Ma perché ci devono essere questi filtri Ste cose rosse Qua Sì, a te ti rispondo Sofì, ora è un po' Devo venire a prenderti Se vuoi Mamma Vabbè Vuol dire che Guarda che bello E io me ne vado da qua Zona safe Vai Ok Allora vengo io a prenderti a sto punto Vabbè Ancora Adesso se ne va a mezzare le palle Mamma Ho paura Allora facciamo una cosa Io prima lo attiro qua Dopo che lo ho attirato Vuol dire che qua Addio per tutta la vita Del mondo Zona safe Dove ti prego Fa che ce la Mamma Mamma La paura La paura Non l'avete capita voi Che vuole Che vuole questo Buongiorno madame Vabbè E perché Perché sono andato a scuola E E poi mi dicono Che sei andato a lavorare Le miniere No Io non sono andato a lavorare Il mio cervello Si Vieni con me Vieni con me Devi correre Aspetta Ma non clicca Ok Ok dai Andiamo Andiamo subito Andiamo subito Tre Non sai bene Vedo pure questo Ok Ciao Ok Ora Si che si ragione Allora Formaggio Chiave verde Prendere la ciuola Chiave blu Vabbè Non fa niente La chiave Si l'ho presa Che vuole Ah Mi ha visto Non c'è bisogno Chi scrive Allora Chiave grigia Andiamo Ok Mamma Aiuto No 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 vabbè Dai Me ne vado No Non voglio farmi uccidere Perché poi perdo la chiave Ecco perché mi stavo Ora andiamo nella luce Ora qua si va piano Qual è il coso 3 8 4 2 3 8 4 Brava Vabbè Ma lei ha seguito i miei video Eh se no Eh se no Eh eh Non mi facevo Luci Ah non è cambiato per niente sto gioco Proprio non l'hanno messo manco Ma ma mi ricordo che pucce Ma mi ricordo che pucce Quel coso la E il parkour Mamma Comunque ragazzi ho fatto tante visualizzazioni Con E' un sacco di visualizzazioni con quella cosa Che Nell'ultimo video Ah Bello Chiave Mi butta Mi butta Mamma Zona sicura Tutto in italiano Una volta non è in italiano Vabbè Poi comunque Dov'è lei? Dov'è l'ha presa sta chiave rossa? Eh eh So Vengo vengo Mamma mia Quando ripete le cose Sta pure Lei registrando un video Io non posso entrare Non posso entrare Ma mi sto spaventando tanto Mi sto spaventando tanto Mamma Che rumori Che fastidio Tutto a caso Faccio tante ininteresse Zona sicura Mamma Allora vi spiego tutto Dai Allora ho messo Un pro memoria Di fare del cimitero Nel mondo di mini world Perché comunque Visto che Ho fatto già tutto Devo fare pure quello E quindi Eh devo farlo Che mi spiace Lo so che è sempre strano Ma ho messo Il pro memoria Perché non mi ricordo Piripalli Dove sta andando? Dove sta andando? Dove sta andando? Dove cavolo sta andando? Ma tutto solo sta facendo Ah Hai la tavoletta? No Hai le cavi rossa? No Ma non mi fa fare niente Sto topo di merda Mannaglia Sì bella Ora non ti posso seguire Aspetta Mi pigliau Nooo Ok Ora divento Peppe Fedici Bella vita che conduce Peppe Fedici Ok Ce la faccio più Vieni qua Storta Decappata Che mi guardi Con questa faccia brutta No non è Eh Ti accompagno Home scritto Vabbè Home per me vuol dire Ok dai andiamo Dai dove sei andato? Ma perché è così veloce comunque Sofia? Forse perché è più magra Non lo so C'è che io sono grosso No No ma ancora io sono magro No Grosso La vita reale No No Mamma mia Ma è Naya Sofia che mi fa Che mi fa andare Ok Potete passare No bello devo passare Ciumpiri Palli Devo passare Io Siano Mamma mia La paura Mi sembra un diavolo Un diavolo demon Quello demon E' il dottor vendetta Che che video ora Mi arriva Paura Paura La paura La paura La paura Sei Scomi Scomparsa La paura La paura La paura Ma Mamma mia Perché io devo giocare A sto gioco di merda E poi questo qua sempre a me viene a prenderlo Ma quella a parte che non esiste Mi frego e me ne vado da qua Qua non si può Va Ma dove cavolo? Dov'è? Collare sembra che Mi fermo dai un attimo Sono nella safe Capito 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 Vieni con me Me l'hai detto 50 volte Questo formaggio A me lo scrivi 3,2,1 Guarda questo mi fa uccidere un'altra volta Questo mi fa uccidere un'altra volta Se è storto Salire Salire Ora sto scrivendo Mamma la spalla mi fa male Che è scritto? Hai almeno quella verde Prendila Prendila Dove? 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 Dove prendila? Ah Eccolo qua Andare avanti Andare avanti Andare avanti Andare avanti Bin Eh Mr. Bin E apriti Mr. Bin Mamma No Ok Ah la chiave è rossa qua Malanova Ok Venire qui Ok Spero che viene pure l'epic Bisogno solo Ah ecco Ok Ok Mamma che è difficile Mamma mia No è difficile Ok No guarda Non mi devo nevevo dire Dove pensare che la vita è bella Mannaglia Mannaglia E fai così 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 Che poi comunque Lion ha una skin Una sua proprio Dico ha una skin Che non ha mai cambiato Sul Roblox E quindi Io a tutti i minuti La cambio Però Perché Non so che cosa Lion Forse All'account È fatto Sul Roblox Da me Mi banno Tutti i minuti Vabbè Perché poi Quando arrivo lì Avvicinate un po' Ecco qui Mannaglia Mannaglia Insieme a mia cugina Sono stato Ok Pure nell'altro video Mi pare Ci ho messo così tanto Vai 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 Ok 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 Ora qua cado No No Dai Dai Ma Ma però guarda Sono sfortunato Perché io comunque Non so giocare Cioè I Così Li so fare Quei si chiamano I parkour Però Cioè I parkour Li so fare Però faccio schifo Quando ci sono questi tipo Di parkour Quelli piatti Mamma Io non è che dove Aspetta Chiudo e apro Quando ce la faccio Alla fine Non l'ho fatta Vabbè Mamma Paura Ok Questa mi fa perdere Tutte le chiavi Sta struttura Allora qua costa 20 28 Roblox Sì ce l'ho Ma può fare Dove le prendere Allora Che ha detto Dai Vai Ok Io salgo sopra di lei Wow Dai Andiamo Ma vada come cammina Poveretta scimmia Una scimmia sicca Ok Allora Chiave rossa Sì Ok Ah Prendo il tavoletto E andiamo Eh Andiamo Provera Non ci Non gli conviene Aiuto No 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 Ok E Ah Ponzi Parapera Ponzi Allora Formaggio Ok Poi No Fai che non è qui Fai che non è qui Sofì Dove cavolo Mamma Aiuto 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 Mamma La paura La paura Nel mio corpo Non c'è più E non c'è manco La tavoletta E quindi come faccio Yes Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Questa volta Non ce l'ho fatta Superarlo L'ultima volta Ce l'ho fatta Non so che mi è successo Comunque Ho perso le speranze Scherzo Ettore Non perde mai Le speranze In questo canale Di sicuro Caricherò un'altra volta Un video Di questo Di questo gioco Su Roblox State tranquilli E giocherò pure Un'altra volta A Miss Maria Maria Io la chiamo Miss Marig Miss Marig E quindi Con Sofia Ovviamente Giocherò Spero che lei Vorrà Comunque Ora devo chiudere Forse Posso rifare Tutto a capo No ovviamente Vabbè Al prossimo video Ciao